E loro sono abituati così, che prima vogliono sentire la vostra carica e poi forse incominciano lo spettacolo. A Solabio, potrò sentire... L'Uno Libano! E ok, da questo momento in console, signore e signori, a fare un grande spettacolo, a farvi divertire e ballare, l'Università Presidente, Mr. DJ From Mars! E arrivano anche i palloncini, guarda, 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 guarda! Solabio! I tuoi suggeri sono arrivati! Vi accorgiamo! Con tutta la nostra carica! E poi sono andati! Chi va a lavorare! Bol di ner bole, bol di ner bole, boli! Con le mani, con le mani, con i pop, 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 le mani, con i pop! Le mani! Vi ho spettato lo suono loro! Signore e signori, voglio vedere! Le mani accena tutti! Sei hey! 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 E di giù mai è tanto a no, E di giù mai è tanto a no! Ma qui! Pressione! Mamma mia! Mamma mia ragazza! st River! 19 10 15 11 16 24 25 27 25 25 76 17 48 47 Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.